oggi parliamo di le rubriche di eduradio per il carcere e la città tutti a tutte a tutti siamo quelli di eduradio la trasmissione che cerca di fare ponte tra carcere e città come atto di solidarietà verso le persone i nostri fratelli e le nostre sorelle che si trovano in questo momento reclusi a bologna e nelle altre case circondariali della della nostra regione e oggi è il venerdì siete in ascolto su radio fuggico su teletricolore su lepida tv e il venerdì giorno sacro per i musulmani per la loro preghiera e quindi giusto poter fare arrivare a tutte le persone che sono di fede islamica ma anche anche agli altri tutti possono trarre utilità qualche parola di conforto di suggerimento spirituale da una persona che ormai è diventato un amico fisso dei nostri programmi il dottor Hamdan al-Zekri membro dell'UQOI responsabile del dialogo interreligioso con cui ci colleghiamo dalla città di Firenze salam alaikum dottor Hamdan salam al-rahmatollah carissimo la pace sia con voi con tutti i vostri familiari l'ultima volta abbiamo parlato un po di Tawab del perdone del ritorno a Dio mi veniva in mente anche questo altro nome molto bello di Dio nella tradizione islamica ma anche nella tradizione giudeo cristiana che è quello del latif che vuol dire tante cose vuol dire il sottile vuol dire il dolce vuol dire il gentile allora come è possibile Iasheh che è quello che viene venerato come creatore del mondo che giudica che è potentissimo sia anche sottile allora questa è una i nomi di Dio sono infinite anche la loro comprensione sono infinite ritornando indietro no ti ricordi anche le domande di alcuni fratelli e sorelle no quando entrano in disperazione no in disperazione perché hanno sbagliato pensano che il mondo è la vita è finita dopo un comportamento oppure perché mi tocca a passare momenti molto difficili dentro il carcere che a volte poi curo un sbaglio oppure con un sbaglio più grave cioè sono stato condannato quindi la mia reazione diventa ancora più grave quindi mi faccio del male faccio del male agli altri mi metto a litigare con il personale con gli educatori con la polizia pertenziaria con quello che sta accanto a me in cella pensando che questo è il mio Maktoub perché questo mi ritorna questa domanda questo del Latif abbiamo parlato di Arrahman Arrahim che sono delle nomi bellissime straordinarie il sommamente il misericordioso e il compassionevole dove io cerco sempre di tradurre il sommamente clemente e misericordioso perché il minimo è Tawab quello che perdona a sabur dove io praticamente ci sono dei nomi dove sono chiamato a come dire ad applicarli nel mio modo di essere devo cercare anche a sabur di essere paziente alla fine Fra Agnazio guadagno io perché quando io applico questi nomi questi appellativi di Dio ma anche il profeta ci invita ma anche il Corano stesso ci invita quando chiediamo a Dio qualcosa di chiederlo con i nomi con gli attributi più belli e quindi non pensare che Allah è il potente Dio è il potente ma ci sono dei nomi in cui nella nostra vita lui sa che ci sono dei momenti difficili sia per noi sia per gli altri quindi ricordando questi nomi ma non ricordandoli verbalmente attenzione ma anche nel nostro agire nel detto del profeta che si rivolgeva a Aisha la pacea secondo lei la madre dei credenti dicendo cioè come hai detto te tradurriamo gentile tenero amorevole cioè fa ottenere con la tenerezza quello che non si ottiene mai con la violenza attenzione questo detto poi è sempre in rapporto al sacro Corano cioè al latif cioè in ogni cosa è lui al latif nella nostra vita quotidiana in tante cose che si accadano nel nostro però dobbiamo ricordarlo quindi al latif ricordandolo che è un nome di Dio molto importante però è molto vicino a noi però siamo chiamati di viverlo di applicarlo nel nostro quotidiano attenzione perché non dobbiamo soltanto pensare Bismillah arrahman arrahim durante il rito religioso quotidiano Bismillah arrahman arrahim anche nel mio agire quotidiano nel mio modo al rahma cioè la misericordia inizia con me stesso prima di tutto poi si applica devo applicarla sugli altri al latif devo ricordare sempre comunque siano le difficoltà comunque sia la sofferenza però devo ricordare che il sommamente clemente misericordioso anche lui è latif gentile e in questo detto del profeta Dio amerevole ama la gentilezza Dio gentile ama la gentilezza sottile ama e fa ottenere con la gentilezza quello che non si ottiene mai con la violenza come una promessa si tu utilizzi una promessa dal profeta poi per l'Islam per la fede islamica il profeta non annuncia niente che non è proprio è qualcosa insegnato da Dio quindi ho una promessa se tu applichi la gentilezza al lutf la dolcezza otterrai sempre dei buoni risultati quindi dobbiamo vivere e ricordare anche questo nome di Dio al latif quindi anche io devo essere latif cioè devo essere tenero tenero con me stesso con gli altri con i miei vicini con i miei parenti con le persone che mi si trovano intorno a me ovunque io sia e così la mia fede cresce così il mio rapporto con Dio cresce così la mia preghiera anche diventa ancora più perfetta viene accolta ancora meglio per cui fratelli sorelle in questo venerdì il nome di Dio al latif dobbiamo cercare di viverlo di applicarlo nel nostro quotidiano devo essere latif devo essere gentile con me stesso e poi essere gentile con gli altri con i miei parenti ma anche con le altre creature il profeta ci ricorda il profeta ci ricorda ci vediamo insha'Allah la prossima volta Barakallah fikum Grazie a tutti Grazie a Hamdana al-Zekri per questa bella meditazione su una delle caratteristiche di Dio, secondo la tradizione islamica, non solo più belle che quello del lutf, la gentilezza, la finezza, il garbo, che sono tutte qualità che rendono bella la vita. Senza queste qualità, la ricchezza, il prestigio, l'onore, persino la bellezza, sono come sfigurate. Ci sono tante cose che possono sfigurare l'onore di una persona, anche se ricchissima. Una di queste, come ben sappiamo, è l'avarizia. Per parlarne, un attimo prima di lasciarci, prendo sempre il diario di viaggi di Ibn Battuta, lo ricordo, il grande viaggiatore marocchino che nel XIV secolo partì da Tangeri per fare il pellegrinaggio e rimase oltre 25 anni in giro per il mondo a fare tante scoperte di popoli, di etnie, di luoghi, di edifici, di natura, di tante cose del mondo, ma anche il suo è uno studio sul carattere delle persone. E allora sentite cosa scopre un giorno in India Delhi, nel suo incontro, nella sua amicizia, con niente di meno che che il figlio del califo di Baghdad, scopre in questa persona così ricca, così prestigiosa, la tacca dell'avarizia. Fra lui e me, dice Ibn Battuta, c'era un rapporto di amicizia, andavo spesso a casa sua e quando partì gli affidai uno dei miei figli, che avevo chiamato Ahmad. Un giorno gli chiesi, ma perché mangi da solo e non inviti mai a pranzo i tuoi amici? Non sopporto, risponde lui, di vedere così tanta gente abboffarsi del mio cibo. Così mangiava da solo. Incaricava il suo amico Muhammad ibn Abi al-Sharafi di dare qualche pietanza che gli pareva e si teneva il resto. Andando spesso a trovarlo, avevo notato che il vestibolo del suo palazzo era buio, senza lampade. Io l'avevo ben visto molte volte raccattare in giardino dei rametti di legna da ardere con cui aveva riempito magazzini interi, ma quando gli chiesi cosa se ne faceva mi disse «Beh, sono cose che possono sempre servire». Inoltre affidava ai suoi amici, ai Mamluk, ai Paggi la cura e la manutenzione del giardino, perché diceva «non mi va che mangino il mio pane senza lavorare». O ancora una volta mi fu chiesto di saldare un debito che avevo e a un certo punto lui mi disse «Giuro che stavo quasi per saldarlo al posto tuo, ma poi non ce l'ho fatta, non ci sono proprio riuscito». E così scrive il nostro ribembattuta con precisione, con un po' di amarezza, ma anche con un'arguzia, un certo senso dell'umorismo. Ma come il figlio del califo, che erano persone, erano i ricconi, i miliardari del loro tempo, tiene spente le lampade in casa sua e va in giro raccattando pezzetti di legno. Giusto, questa è una cosa che si può dire, un riciclo, oggi lo chiameremo il riciclo, non perdere le risorse. Però lui le immagazzinava, non le usava, dicevano che potevano servire e ancora non era in grado di invitare le persone alla sua tavola. Se c'è una cosa che per la cultura araba, ma la cultura di ogni popolo è comune, è tipica, l'invito delle persone alla propria mensa, quando ho qualcosa non posso mangiarmelo da solo, lo devo condividere. Ma tutta questa cosa era resa impossibile dalla sua avarizia. In arabo si dice al buhul, il buhul, il bachil, è l'uomo avaro, che giunge perfino a non poter aiutare un suo caro amico. Possiamo presumere, lui lo dice, eravamo amici, eravamo amici, ma nel momento della ristrettezza aveva un debito. Lui fece finta di non vedere e si scusò dicendo che non poteva aiutarmi. L'avarizia è una grande malattia dello spirito ed è così grave che può cogliere qualsiasi persona, non solo il povero che non ce la fa perché non ha i mezzi, ma ancora di più il ricco. Quindi l'invito che viene oggi da Ibn Battuta è guardarsi dall'avarizia anche con un piccolo gesto di generosità. Alla prossima! Oggi parliamo di Le rubriche di EduRadio per il carcere e la città Bentornate e bentornate ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci seguono da dentro e fuori le mura delle carcere dell'Emilia Romagna. Oggi continuiamo con la nostra rubrica di Ginnastica da Camera. Oggi cominciamo al motto di Only the Brave, cioè allenamento strong. A parte gli scherzi, non fate i coraggiosi, passate a questo livello solamente se i livelli successivi ormai ve li bevete come un bicchier d'acqua e vi sentite estremamente sicuri della coordinazione e della stabilità dei vari movimenti. Un esercizio dell'allenamento del blocco allenante strong sarà uno squat, uno squat però che prevederà l'abbandono del terreno e quindi l'introduzione di una fase di volo durante l'esecuzione dell'esercizio stesso. Quindi ripartiamo da ciò che abbiamo imparato addirittura a livello beginner, ripassiamo la tecnica dello squat ricordandoci bene che è il bacino a scivolare indietro, è il busto a scivolare in avanti, le ginocchia non superano le punte dei piedi fino a che il bacino non sia all'incirca allineato con loro stesse e dopodiché potremmo assolutamente, cioè con il bacino sotto la linea del parallelo delle ginocchia, anche assolutamente avanzare con le ginocchia oltre le punte. E quindi la tecnica dello squat in definitiva sarà questa. È assolutamente importante qualora riusciste a scendere con il bacino a livello delle ginocchia, scappare in avanti con le ginocchia rispetto alle punte. Se non lo doveste fare andremmo a costringere l'anca a un movimento innaturale. Invece, così come costringeremmo il ginocchio a un movimento innaturale facendo questo e non rispettando la linea delle punte con il bacino oltre le ginocchia, costringeremmo l'anca a un movimento innaturale se non scivolassimo in avanti con le ginocchia a questi livelli di accosciata. Quindi mi raccomando a questo concetto. Lo squat che introdurremmo per il circuito strong si chiama squat jump e quindi dovremmo andare ad eseguire uno squat completo, caricare l'inerzia per uno slancio con le braccia che si distendono indietro e andare a staccare i nostri piedi da terra mirando a estendere il corpo durante la fase di volo verso l'alto con le mani protese verso il soffitto. E quindi il nostro squat jump, uno squat completo e in uno slancio che parte dalla contrazione dei glutei, dallo stacco dei talloni con la contrazione dei polpacci e un'estensione di tutto il corpo e di tutto il tronco fino ad arrivare a staccare le punte da terra e avvicinare le punte dei piedi da terra e ad avvicinare le punte dei polpastrelli delle mani al soffitto. Non importa elevarci di tanto, importa solamente andare a staccare anche di poco la superficie dei piedi da terra. Dove sarà la difficoltà? Oltre alla coordinazione nello slancio sarà nell'atterraggio perché una volta vissuta la fase di volo devo assicurarmi di atterrare andando a sistemare tutti i segmenti corporei in una posizione d'ale da non affaticare e stressare le articolazioni. Quindi devo assolutamente assicurarmi di atterrare sugli avampiedi e assolutamente non sui talloni. Se vi capitasse di atterrare sui talloni vi accorge, sbagliando, vi accorgerete subito che tutto il carico corporeo si scaricherà a livello della lombare. E tutto ciò non va bene perché ricordate anche dalle puntate precedenti tutti i fastidi e la pesantezza che dovessimo avvertire a livello lombare delle ginocchia o delle anche sarebbero tutti dei segnali che ci stanno facendo capire che l'esercizio non è effettuato o eseguito correttamente. Quindi dobbiamo immaginare il nostro corpo come una molla che viene compressa per accumulare energia cinetica va a esplodere l'energia cinetica per rimbalzare verso l'alto e va una volta atterrati a terra a controllare l'energia inerziale della caduta ritornando a mettere in pratica i principi dello squat che abbiamo appena ripassato. E quindi non devo fare tanto rumore a terra ma devo fondamentalmente accompagnare la caduta lo squat jump lo andremo a ripetere per dieci volte consecutive. Secondo esercizio strong il plank nostra vecchia conoscenza l'abbiamo conosciuto con le ginocchia in appoggio con i gomiti a larghezza spalle e ripasso perché sono concetti importantissimi coda tra le gambe quindi bacino in retro versione che rotola all'indietro glutei stretti e attivi cosce quindi quadricipite strette e attive addome stretto attivo e quindi ombelico all'indentro e respiro cercando di mantenere il bacino all'altezza delle spalle e la lombare assolutamente in flessione e mai in estensione quindi mai in carico. Da qui che cosa possiamo fare per aumentare la difficoltà dell'esercizio per intensificare la resistenza addominale andando a distendere i gomiti e mantenendo le ginocchia distese i principi sono sempre gli stessi spalle basse coda tra le gambe glutei cosce addome in contrazione e pavimento lontano dal petto capo in linea con tutto il resto del busto e da qui respiro mi raccomando per chi avesse problemi e fastidi legati alla cervicale spalle basse spinta intensa verso il pavimento metteranno saranno due modalità di azione che metteranno in sicurezza le compressioni la cervicale da compressioni fastidiose nel caso in cui durante o immediatamente dopo l'esercizio avvertiste rigidità al collo o algie quindi fastidi o dolori alle spalle mi raccomando tornate alle versioni precedenti quindi il mio consiglio è per tutte le evoluzioni del plank partire sempre dalla prima una volta stabilizzato bene l'equilibrio del bacino della lombare e dell'addome passare qui e poi se ve la sentite di passare a livello strong qui come per le versioni precedenti mantengo respirando per il massimo che riesco e il massimo non è tirare fino all'ultimo fino a nostra mazzare a terra ma il massimo è rimanere in linea in modo da non caricare neanche minimamente la lombare e poi passare all'esercizio successivo a differenza del livello beginner e del livello medio questa parte centrale di allenamento almeno inizialmente conterà solamente due esercizi due esercizi però di una difficoltà e che prevedono uno sviluppo della coordinazione della forza nettamente maggiore rispetto ai due livelli precedenti quindi in questo momento la nostra scelta è quella di presentarvi solamente i due esercizi che sono comunque completi perché fanno lavorare fondamentalmente tutti i maggiori gruppi muscolari del corpo e potrete in questo modo cominciare a cimentarvi con il nuovo riscaldamento strong seguito da il nuovo allenamento strong andando ad eseguire quindi i 10 squat jump seguiti da la massima tenuta in plank a ginocchia distese e gomito distese seguito da il vostro recupero attivo di un minuto che già conoscete bene tutto questo come per i livelli precedenti per quattro volte per poi andare a seguire con il defaticamento che conoscete già del livello medio molti di voi arriveranno già a eseguire il riscaldamento strong l'allenamento strong e procederanno con il defaticamento a media difficoltà alcuni di voi saranno ancora totalmente a livello beck in alcuni di voi eventualmente avranno già approcciato il riscaldamento medio e procederanno e staranno procedendo con il corpo di allenamento centrale beginner non c'è assolutamente fretta nel passare di livello se non che vi sentiate quasi annoiati nello svolgere gli esercizi precedenti allora a quel punto vi cimenterete perché è un ottimo modo per capire se il nostro corpo è pronto a cimentarsi a un livello successivo non tanto per ego ma quanto per necessità e quindi vi invito assolutamente a rispettare e a cominciare a percepire le sensazioni che il vostro corpo vi comunica durante il movimento e dopo il movimento perché è l'unica vera linea guida che in maniera indipendente vi può mettere al sicuro se non seguiti chiaramente da personale competente che si può confrontare con voi riguardo alla tecnica e all'esecuzione degli esercizi ci vediamo alla prossima con un ultimo esercizio da inserire in coda ai due esercizi che abbiamo già visto per la parte centrale dell'allenamento strong e il defaticamento strong oggi parliamo di le rubriche di eduradio per il carcere e la città e la città la città di